Siamo per andare a chiamare il boss per la prima intervista di Acros Vlog, sono emozionatissima e non vado veramente all'intervistarlo, andiamo andando. Boss? Boss? Ah! Sì, compro, compro, entrate pure, entrate pure, sono libero. Eh sì, noi magari... Torniamo dopo, eh? Ciao Sergio, benvenuto a questo primo episodio di Acros Vlog, di cui ovviamente tu non sapevi assolutamente nulla. No, grazie. Proprio zero di zero, prego. E infatti non sai nemmeno quali saranno le domande che ti andrò a fare, perché questa intervista è totalmente blind. Per cominciare una domanda semplice e semplice. Allora adesso va di moda la 10 years challenge. Noi, che siamo i più fighi di tutti, facciamo la 8 year challenge. Cos'è cambiato dal 2011 ad oggi? Oh, porca miseria! Eh sì, quali sono gli obiettivi per arrivare almeno a 10 anni? Dopo 8 o a 10? Almeno lo spero, sì, assolutamente. Beh, è cambiato tutto. Perché non 10 anni fa, ma 8 anni fa eravamo in 3. 3. Quindi... E ora siamo invece in... 65. Quindi un bel bel cambiamento. Eravamo in una stanza, non c'era nulla di che. Avevamo 3 voglia di fare, un po' di inesperienza, un po' forse di intrapendenza. Un pizzico di follia che... Motale, quella non è mai mancata, è continuato ad esserci, uno sviluppo forte, anche se il primo anno, devo dire, veramente tosto che è stato, però poi dopo bene, figo. È cambiato tanto ed non è cambiato niente sotto alcuni aspetti. E invece progetti per il futuro, è spararci qualcosa, però piccolo, piccolo, piccolo. Piccole cose. Di sicuro è ancora provarci e continuare a crescere sempre di più. L'estero, l'estero è il mio vero pallino in questo momento, perché è un modello nostro che secondo me può funzionare, funziona, abbiamo dei dati reali e poterlo portare fuori e è il mio sogno, quindi avere degli step. Abbiamo fatto il primo test con Hamburgo e vedremo se riusciamo a portarlo ancora un po' più avanti. Ecco, il tuo modo di pensare al digital marketing, ci sono tanti modi ovviamente per lavorare nel digital, il tuo personale, quello che è la tua impronta, che poi alla fine è quella che è la cross, qual è? Allora, ci sono mille modi, c'è il classico dire, pensare out of the box, le solite cose, le solite cose, le solite cose, bellissime, bellissime. In realtà è un po' quello che è la filosofia che sto cercando di portare qua, quindi non ragionare su un solo canale di ADV, ma ragionarlo veramente a 360, quindi unire quello che possono essere il native, i video, i vlog, qualsiasi cosa per arrivare poi a un risultato finale. Qua la tipica domanda, tipo, vuoi bene più a mamma o più a papà? Qual è il tuo canale preferito? Sky Sport MBA! Ma ovvio! No, i nostri, i nostri! Allora, no, no, è impossibile rispondere in questa maniera. Tengo tantissimo, in realtà è un canale che non sviluppiamo troppo, che è il SEO, ma perché ci sono nato, cioè nasco come SEO e quello ci tengo tanto e le possibilità sono enormi. Però tra tutti quelli che facciamo è, diciamo che è quello che non facciamo ancora. Ecco, ma adesso non parliamoci più personale. Abbiamo cambiato tante serie, appunto nel 2011 ci dicevi prima, da 3 a 65, siamo di tantissimi, quindi, ma qual è quella cosa che non manca mai nel tuo ufficio? Cioè, la cosa che rimane lì sempre? Ah, è facilissimo, ne due. Due, vai! E sono due e due sul basket. Uno è il cestino a forma di canestro. Vabbè, mi immagino la base, posso tirare. Tante volte che devo stare e tirare. E l'altro è un canestro reale, quindi sono le due cose che non possono mai mancare, ma che poi non le uso mai, però è come cosa zen. Vabbè, per tenersi in allenamento, anche solo mentalmente. Assolutamente. In senso, facciamo un più un approfondimento un po' più generale. Insomma, parliamo del digital marketing in questo mondo vastissimo, enorme, più nel suo complesso. Per chi ovviamente non mastica come noi il digital, quali sono i vantaggi effettivi del fare il digital marketing rispetto alla pubblicità tradizionale? È la domanda che probabilmente ti faranno tutti i clienti. Il primo, il primo, che rispetto a tutto quello della pubblicità tradizionale, è quello che poi ha un po' la derivazione dei miei studi e che mi affascina più di tutti, è che è tutto misurabile. Tu riesci a sapere esattamente quante persone hanno visto quella pubblicità, quanto ci hanno cliccato, quanto ci hanno interagito, quanto tempo sono stati su quella pubblicità. Se noi facciamo la stessa cosa, lo uso molto come esempio, su un cartellone che mettiamo in via Roma, ok? Quante persone l'hanno visto? Quante si sono fermate? Quanto hanno fatto questa cosa qui? Hai una stima di quello che può essere, perché è una stima di flusso giornaliero. giornaliero. Ma non è tutto stimato, mentre lì sono dei dati oggettivi e reali. Questo secondo me è il più grande vantaggio che permette il digital. Quindi riuscire a quantificare un ritorno di investimento, quindi il ROI, di ogni tua attività. Adesso invece voglio farti passare un momento da vero influencer. Quindi guarda in camera e spiega quali sono i trend del digital marketing per questo 2019. Guardiamo entrambi così. Il trend principale che spingerà ancora tantissimo sicuramente sarà il native advertising, aprivo in maniera forza e continuo a guardare. Il native advertising assolutamente, unito probabilmente con la parte video. Cioè la somma delle due cose sarà il trend secondo me principale che si sarà sviluppare e dei nuovi tipologi di formati. Cioè Instagram sta facendo talmente una tendenza che sta cambiando anche il formato pubblicitario. Per quello che riguarda un po' più noi e quello che possiamo andare a fare, queste secondo me sono le tre grandi attività che ci saranno. E soprattutto dedicheremo un vlog a questo, quindi attenzione. Basta che non mi invitate poi. Ma come? Che scherzo, sono in predisposizione. Siamo qua al posto della pianta. Bello, bello. Siamo sempre a vigilare su di noi. Secondo te il futuro di digital marketing riguarderà soltanto social media e VR oppure ci sarà sempre posto comunque per tutti quei canali che all'occhio del grande pubblico sono magari un po' sorpassati come magari l'email o l'SMS? Quello secondo me avranno sempre un deciso peso. Saranno tre, quattro anni che parlo con persone dove mi dicono le den sono morte. non funzionano più, non può più andare a fare. No, si sono semplicemente evolute e uno si è dovuto evolvere insieme a loro. Avranno sempre un peso specifico come ce l'ha da 15 anni Google AdWords, come ce l'ha da tante altre cose perché una tipologia di attività da fare per andare a fare una lead generation, quindi molto specifica, molto a target, non c'è ancora così grande, diverso dalle dem, da altre attività che continuano di meno. No, finito, sono morto. È particolare come attività ma fatta sempre un po' più nel dettaglio, non si può più fare come si faceva 5 anni fa, ma un po' come tutte le altre attività, non sono più le stesse di 5 anni fa, devi essere molto veloce e essere molto attento. Sì, adesso comunque lo sviluppo è one to one, cioè il consumatore, l'utente vuole un rapporto diretto con l'azienda e ovviamente bisogna evolversi anche in questo senso. Assolutamente. Perfetto, allora io dovrei aver finito con le domande tecniche, imbarazzanti, ammetto che non ne vengono, non me ne vengono. Meno male, salvo. Alì ti verremo a cercare il tuo ufficio quando meno te lo aspetti, quando ti allenerai a lanciare a cadere. Noi ci rivediamo presto con il prossimo vlog in cui, chissà, parleremo probabilmente di native, di email marketing, chi lo sa. Continuate a seguirci per scoprirlo e Sergio sarà sempre con noi qua al posto della pianta, come ha promesso. Ciao, alla prossima! Io non ne sapevo niente! Niente! Questo non si riprende, non si riprende! Spero qua finirà tutta quanta in backstage. Si mette off. Tutta, tutta, tutta. Sì, poi lo sto già registrando. Ah, è tutto bene.